amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati big pharma è la macchina della salute mondiale di questa macchina bisogna conoscerne meglio le parti perché ha anche molti lati oscuri già il nome big pharma quando adesso l'ho nominato avrà fatto storcere la bocca a molti a molti di voi cerchiamo di capirne meglio di questo mondo con molti lati oscuri assieme a gabriele sanino per il nostro appuntamento del sabato gabriele ciao ciao carlo ciao a tutti voi riconosco ricordo il canale telegram il canale a rambola di gabriele quello che i media non dicono e ormai abbiamo creato anche l'aspettativa sul tuo libro te lo chiedo novità a breve io credo che è piuttosto alta dico sempre questo mese già da maggio doveva uscire siamo in ritardo ammetto che siamo in ritardo siamo alla fine dell'impaginazione la copertina già pronta bisogna avere un po di pazienza io credo che non manchi molto amai va bene aspettiamo aspettiamo non diciamo più nulla ai nostri ascoltatori anche perché doveva forse già uscire la faremo una puntata direttamente senza più parlarne prima faremo una puntata direttamente di presentazione del libro veniamo al tema di oggi big big pharma e che cos'è big pharma che cos'è big pharma gabriele big pharma è l'insieme delle multinazionali no noi definiamo così insomma big pharma in una puntata precedente abbiamo già parlato di big pharma in particolare degli illeciti della pfizer soprattutto no pfizer occupa una fetta molto grossa di questa di farma pensiamo soltanto che pfizer tra il 2002 2009 ha sborsato qualcosa come 3 miliardi di di dollari di sanzioni civili e penali e in germania c'è già la prima causa in questo momento contro i sieri magici della pfizer quindi nonostante c'è la pfizer si sia molto tutelata per non avere erogne in realtà c'è già una prima causa quindi se si rompe quella diga lì diciamo che dopo veramente si crea si crea di tutto no e i colossi farmaceutici carlo hanno una lunga storia di comportamenti dannosi nei confronti dell'umanità no che a mio avviso abbiamo il diritto di conoscere perché comunque ripeto big pharma è la macchina della salute mondiale fino al proprio contrario diciamo che hanno mietuto queste multinazionali centinaia di migliaia di morti purtroppo bisogna bisogna dirlo una volta è per tutte non soltanto per sperimentazioni di massa attraverso farmaci che sono stati sperimentati proprio nelle comunità più povere del mondo ma anche perché per per delle pratiche commerciali scorrette perché molto spesso hanno venduto farmaci salvavita prezzi molto elevati e ciò ha praticamente fatto sì che non tutti potessero accedere alle cure quindi ecco che molte persone sono morte quantizzare a mio avviso i morti che ha fatto big pharma per fino a questo momento per quanto mi riguarda è impossibile perché veramente ci sono state molte pratiche sbagliate nel passato e molto importante dire che big pharma è formata da piccole medie grandi aziende per quanto riguarda le grandi e medie multinazionali queste molto spesso pagano le multe perché lo fanno scusate perché lo fanno perché comunque le multe sono inferiori rispetto ai ai guadagni che hanno che hanno sostenuto che hanno ricevuto invece le piccole per le piccole diverso perché le piccole sono quelle che hanno meno guadagni e quindi dare delle molte alle piccole vuol dire chiuderle molto spesso le piccole aziende di big pharma puntano anche su prodotti naturali e non sintetici e questo in qualche modo viene viene combattuto viene vessato cioè queste multinazionali quando si occupano di cure naturali viene vengono veramente ostracizzate dal sistema pensate che nel settembre del 2022 la therapeutics good administration la cui sigla è tga ha multato la conna trek la green la little green pharma e mg farmaceutics perché promuovevano una la cannabis la classica cannabis medica soggetta appunto alla prescrizione medica quindi sì 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 in realtà quello che si voleva punire era l'uso della cannabis come come soluzione terapeutica e ci sono altre multinazionali medie per esempio la multinazionale ucraina mondi farma questa per esempio ha ricevuto una multa recentemente di 300 mila dollari per 24 violazioni circa la promozione di opioidi e il punto è che siccome i guadagni di questa multinazionale ammontano a miliardi di dollari ecco che mondi farma paga tranquillamente no a c'è anche la multinazionale bot che ha dovuto pagare nel 99 però questo 100 milioni di dollari per la produzione di dispositivi diagnostici non conformi e addirittura nel 2012 ha pagato 1,5 miliardi di dollari per aver commercializzato il legamento un farmaco antipilettico che si chiamava depacote che in realtà era un farmaco che provocava la demenza quindi c'è veramente in questo ambito c'è veramente di tutto ripeto la storia delle multinazionali una storia costellata di di multe di sanzioni di illeciti la domanda è quanto ne sappiamo noi di queste multe quanto ne sappiamo di queste sanzioni di quanto ne sappiamo di questi illeciti zero perché perché se sapessimo se sapessimo insomma tutto questo sicuramente avremo meno fiducia del sistema in generale ci faremo qualche domanda e ciò non si vuole non non vuole non si vuole che accada ecco perché poi dopo quando insomma succedono delle cose a livello globale tutti si fidano in massa perché non sanno neanche dei precedenti di big pharma no la consapevolezza sarebbe diversa appunto è che ci sono anche i finanziamenti di big pharma alle alle emittenti televisive basti pensare alle pubblicità dei farmaci nelle televisioni no quindi si capisce perché i media mainstream non dicono di fatto nulla per quanto riguarda sempre molti dei multinazionali per esempio astrazeneca recentemente di astrazeneca è stato ritirato il siero il siero di astrazeneca quello per la psicopandemia insomma e il siero di astrazeneca è stato ritirato da più di una dozzina di paesi perché udite udite provocava coaguli di sangue quello che insomma noi sappiamo cioè il punto è quanti di noi sanno che veramente è stato ritirato pochi perché comunque non sì perché sennò altrimenti ci si potrebbe cominciare a fare delle domande perché quindi la fiducia della massa non deve venire meno esatto quindi in 12 paesi è stato eliminato il siero di astrazeneca e noi non lo sappiamo quindi è veramente una cosa inquietante tra l'altro astrazeneca è nata nel 1999 dalla fusione tra la svedese astra e la britannica imperial chemical industries questa imperial chemical industries era quella che produceva i defolianti durante la guerra chimica che la gran bretagna fece nei confronti della malesia quindi queste aziende farmaceutiche molto spesso hanno creato anche armi chimiche questo è quello che voglio dire proprio da usare nelle guerre e tra l'altro insomma quando parliamo di defolianti ci viene in mente anche il famoso agente orange degli stati uniti che fu utilizzato nel vietnam quindi quello che voglio dire che la storia di queste multinazionali è una storia insomma non non chiara certamente ha dei aspetti anche molto scuri molto torbidi e per quanto mi riguarda un giornalista vero insomma il giornalismo vero d'inchiesta dovrebbe assolutamente parlarne senti gabriele oltre a quelle che hai già menzionato ci sono altre multinazionali che hanno commesso illeciti beh sì veramente tante perché il problema nel problema non riguarda carlo soltanto i siri magici che un po il top del top no c'è visto che insomma non non riuscivano neanche a fermare il contagio e la johnson e johnson per esempio per anni ha venduto polvere di talco contaminata da amianto e per evitare il contenzioso che cosa ha fatto la johnson e johnson ha scaricato il prodotto su una società consociata chiamata ltl management e questa società è stata messa in bancarotta in modo tale che acqua quel punto il prodotto era affiliato una società in bancarotta e addirittura l'azienda ha pagato due miliardi di dollari per le vittime e tutti lo sapevano un po che questo talco conteneva amianto però si faceva finta di niente e tra l'altro recentemente la food and drug administration ha revocato l'autorizzazione sempre per il siero magico per la johnson e johnson quindi insomma anche questa notizia e non è non c'è pervenuta quindi sia strazenega che johnson e johnson sono viste ritirare il siero una in 12 paesi e una proprio la food and drug administration poi c'è anche la glaxo smith klein che è un'azienda britannica nata dalla fusione tra glaxo welcome smith klein e nel 2019 la glaxo qui esplose lo scandalo della dello zantac ovvero un farmaco per l'ulcera molto usato in tutto il mondo che però sosteneva sostanze cancerogene e per 40 anni gli scienziati della glaxo lo dicevano sotto banco quindi voglio dire per per tutti questi anni il farmaco è stato distribuito alle popolazioni di tutto il mondo poi c'è per esempio la merc la merc che la casa farmaceutica più antica del mondo che è un tempo era tedesca e oggi è di black rock e di state street e questa ha prodotto un farmaco che si chiama il viox che è un farmaco per l'artrite che aumentava il rischio di infarto dite udite del 400 per cento quindi voglio dire provocava una morte quasi certa insomma no e il farmaco approvato nel 99 ed è stato distribuito per ben sette anni quindi quante vittime sono state fatte non c'è dato sapere non c'è dato sapere perché insomma sette anni di distribuzione di un farmaco che arriva al 400 per cento in più di possibilità di creare un infarto all'interno di delle persone che lo assumevano poi c'è ancora la novattis che è un colosso farmaceutico svizzero che ha scaricato illegalmente rifiuti chimici tossici negli stessi indagando anche l'agenzia governativa e ha pagato per questi reati poi c'è anche la roscio che ha avuto una multa dal dipartimento di giustizia di 500 milioni di dollari per aver truccato gare d'appalto per la fornitura di vitamine per uomini e per animali e ripeto queste società soprattutto se grandi e medie preferiscono pagare le multe perché tanto i guadagni che hanno fatto da quei farmaci per i quali sono stati multati sono molto molto superiori quindi a loro conviene pagare la multa e basta e non andare neanche in tribunale ma al massimo al massimo se qualcuno gli fa causa pagare e vedere di transare il tutto e molti molte persone carlo pensano ancora oggi che la medicina di big pharma sia nata prima della dell'omiopatia oppure della della naturopatia niente di più falso questo perché perché fu la famiglia rockefeller in realtà a spingere le le scuole di medicina a studiare la medicina allopatica ovvero la medicina che curava in qualche modo più i sintomi che la malattia stessa no e cosa fece le rockefeller rockefeller in realtà pagarono profumatamente la lama ovvero l'american medical association e questa nacque nel 1847 l'american medical association aveva la aveva il compito di stroncare tutti gli studi e tutte le ricerche che riguardavano la naturopatia la fitoterapia l'omiopatia in modo tale che diventasse in qualche modo giusto agli occhi dell'opinione pubblica soltanto la medicina di big pharma finanziata dai rockefeller addirittura fu creato un dipartimento della propaganda che viene chiamato dipartimento d'indagine un termine orwelliano ecco che indagava tutto quello che veniva fatto tutto quello che non era di big pharma e lo screditava quindi tutte le cure naturali tutte le cure omeopatiche venivano in questo modo screditate e negli anni 20 addirittura si ridussero tantissimo i corsi di laurea ovvero rimasero soltanto quelli di big pharma perché i rockefeller finanziavano appunto quell'associazione di medici a livello internazionale che aveva screditato tutto quindi di conseguenza insomma la corrente principale da quella di big pharma e pensate questa è la cosa incredibile scuole di omeopatia non ricevevano soldi da rockefeller e quindi in qualche modo erano molto erano molto svantaggiate eppure eppure john rockefeller si curava con l'omeopatia e arrivò a 97 anni quindi questo insomma bisogna dirlo questa è una vera chicca sì questo è una vera chicca arrivò a 97 anni curandosi con l'omeopatia lo dichiarò anche l'ha dichiarato più di qualche volta però tutto è passato in cavalleria oggi siamo al paradosso di una medicina quella di big pharma che cura ripeto soltanto i sintomi e non le malattie non ha interesse perché è business principalmente e addirittura siamo da una medicina che fa più soldi a cercare la cura ecco per le malattie che a trovare con la cura perché qua quanti anni sono che c'è la ricerca sul che sulla sul cancro e quant'altro e poi non si arriva a delle soluzioni no perché c'è molto business proprio nella ricerca c'è il business è nella ricerca e basta non nella ricerca delle soluzioni io credo che queste cose qua dovremmo dovremmo parlarne perché ripeto l'informazione sana fa questo un'informazione sana dice cose vere reali dimostrabili informazione sana crea consapevolezza un paio di considerazioni avevo gabriele e allora sono cifre le multinazionali del farmaco mettono accantonano ogni anno delle cifre clamorose veramente a livello di decine di milioni di euro in previsione di cause che sicuramente arrivano e quindi nel loro bilancio mettono da accantonano appunto cifre veramente clamorose anche questo se si sapesse se la pubblica non sapesse comincerebbe a porsi delle domande e hai nominato un poco fa la merck una delle più grandi fa è stata è stata è la più grande credo casa casa farmaceutica del mondo e ricordiamo che a metà degli anni settanta l'allora presidente della merca eric gaus den disse affermò che il suo sogno era quello di vendere medicine a individui sani e quindi questo è proprio un è un paradigma questo ti fa ti fa capire è una proprio è una piccola porta per accedere al all'universo che sta dietro alla azione delle delle in particolare delle multinazionali specificamente farmaceutiche senti abbiamo fatto appunto una panoramica molto utile preziosa sulle sulle multinazionali del farmaco e parliamo di medicina territoriale che è quasi sparita l'abbiamo potuto sperimentare in questi tre anni dal 2020 l'abbiamo potuto sperimentare in maniera direi clamorosa e ognuno di noi l'ha potuto sperimentare e il ruolo dei medici credo che ognuno di noi anche questo lo stia sperimentando nella sua quotidianità e quindi non sto dicendo niente di strano il ruolo di medici ormai quello essenzialmente di compilare prescrizioni di esami cosa cosa stanno facendo i medici che che percorso sta sta facendo la classe dei la classe medica la categoria medica il pesce pulso dalla testa si dice no michael elner che uno scrittore scrisse una frase che riassuma mi avviso mirabilmente quella che è tutta la società umana che poi anche il sistema attuale lui scrisse guardiamoci intorno tutto va all'indietro tutto va tutto è alla rovescia i medici distruggono la salute gli avvocati distruggono la giustizia le università distruggono la conoscenza i governi distruggono la libertà i principali mezzi di comunicazione distruggono l'informazione e le religioni distruggono la spiritualità si parla infatti dei paradossi di elner che a mio avviso meriterebbero una puntata a parte perché è una cosa veramente bellissima magari la faremo hai lanciato una spunto interessante la faremo è veramente la merita ad ogni modo perché i medici distruggono la salute il discorso è che è semplice se applichi una medicina che di base cura principalmente i sintomi ma non ha interesse a curare le malattie perché la malattia un business ecco per tutto quello che ci siamo detti addirittura questi farmaci fanno anche altri danni ecco che alla fine non esci più insomma questo è molto credo che sia veramente molto semplice da comprendere e sappiamo che ancora adesso le case farmaceutiche pagano e premiano medici no anche per dispensare determinati farmaci ma addirittura ci sono medici che si vantano di tutto questo inoltre dal 2016 i medici non possono più parlare male dei sieri tu prima mi parlavi di quella del capo della merc che diceva che il suo sogno era era curare le persone sane no e oggi il sì sieri fanno questo cioè curano persone sane insomma che graustina parlava addirittura scusami che diceva proprio vendere non curare vendere farmaci a persone cian esatto e dal 2016 ripeto che i medici non possono più parlare male di questi sieri e la medicina convenzionale ha a che fare con l'arricchimento è inutile c'è una persona sana non è non è un business invece una persona malata diventa business noi una società malata come questa anche la sanità è malata bisogna bisogna ammettere le cose come stanno e infatti il sistema vuole persone malate se non bisognose di farmaci e quindi ecco che tutto questo naturalmente si rispecchia poi dopo nella follia collettiva che vediamo anche per il discorso di del sistema sanitario la cosa folle è che negli stati uniti per esempio i medici sono la terza principale causa di morte dopo le malattie cardiache e il cancro questo perché oltre 300 mila persone muoiono ogni anno in quel paese per interventi chirurgici non necessari ovvero ancora errori di trattamento effetti dei farmaci e quant'altro quello che bisogna capire è che la medicina di big pharma è in sostanza una rete di interessi privati che culla il medico che scusate che ingloba il medico dalla culla della sua professionalità alla tomba potremmo dire fino alla fine perché il medico in qualche modo è soltanto nel solco di big pharma perché perché se non fa quello che gli dice big pharma può anche essere radiato e l'abbiamo visto in tutti proprio in questi in questi anni con quello che è successo insomma c'è addirittura hanno radiato medici che hanno curato e salvato vite e hanno premiato con 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 soldi e quant'altro i medici che hanno eseguito gli ordini quindi veramente ormai è plastica questa situazione che i medici ne siano consapevoli o meno io sono convinto che la guerra è al nostro sistema immunitario perché un sistema immunitario indebolito è la vittoria di big pharma ma se si basa sul capitale quindi credo veramente che sia la logica no e infatti tutto poi coincide perché se uno pensa agli additivi nei cibi ai cibi scadenti agli oe gm a tutti questi sieri alle onde elettromagnetiche allo stress alla vita stressante che viviamo ai farmaci e alle effetti tutto in qualche in modo indebolisce il nostro sistema immunitario no tutto il modello di vita e il sistema che crea questo modello di vita una volta che si sa cos'è big pharma la base io penso anche questo penso che una volta che si sa cos'è big pharma la base si può capire che bisogna si può capire di che bisogna considerare una volta e per tutte anche altri approcci perché gli approcci esistono però non sono sponsorizzati come come lo è big pharma ecco perché bisogna in qualche modo anche stare attenti a quello che sta accadendo mi riferisco per esempio al trattato pandemico dell'oms che sapete che insomma l'oms sta creando in qualche modo questa rete e addirittura io lo reputo abbastanza pericoloso perché l'oms comunque in qualche modo ha dimostrato tante falle in tutto quello che è successo e perché perché questo trattato pandemico si parla di potenziali epidemie parla di potenziali epidemie quindi neanche più effettive ma potenziali poi vuole che le sue istruzioni siano obbligatorie vuole addirittura anche condividere i dati sanitari nazionali vuole chiedere la censura di chi non la pensa nel modo giusto tra virgolette quindi loro vanno in quella direzione che è la direzione poi dell'agenda 2030 del nuovo ordine mondiale e quant'altro bisogna stare attenti anche se io ho sempre detto che il sistema sta crollando il dollaro sta crollando per la loro moneta l'elite intera sta per crollare quindi questo determinerà anche il crollo di questa big farm perché comunque è tutto collegato il sistema bancario il sistema sanitario il sistema mediatico è tutta una gigantesca macchina con i piedi di argilla fondata sul denaro creato dal nulla e se tu gli blocchi quelle stamperie che quello che sta accadendo tutto il resto crolla inesorabilmente quindi insomma voglio dire i segni di questi crolli sono ovunque perché è pieno di crepe e ci sono anche dichiarazioni clamorose come per esempio zuckerberg che poi ultimamente ha dichiarato che che meta ovvero facebook ha sbagliato a censurare informazioni sulla psicopandemia perché insomma alcune erano effettivamente giuste e quindi insomma non andavano censurate in pratica ha più rato la 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 diciamo la versione principale quindi il sistema sta crollando e ripeto quando crollerà quella moneta che quando ci sarà quel default che non è non è una questione di sé ma una questione di quando anche big pharma mi avviso crollerà perché comunque si basa proprio su questo sistema finanziario senti gabriele gettiamo un po uno sguardo avanti no in base alle tue ricerche le tue analisi quale qual è quale sarà il futuro della medicina ci sarà una nuova medicina che si muove da un diverso di quello di quello che citiamo ancora una volta perché proprio un paradigma questa questa frase di gauss del line sogno di vendere medicine di medicina a persone sane e comunque lo scopo è vendere medicina tutti insomma no più possibile ecco ci sarà una nuova medicina che futuro vedi tu per la medicina allora carlo albert einstein diceva che la medicina del futuro sarà una medicina delle frequenze mi proprio lo diceva tranquillamente e diciamo che a partire proprio dagli ultimi anni quello che è successo la medicina frequenziale che già esiste sta vivendo una vera e propria rinascita dato che le persone hanno compreso che non possono fidarsi della della versione ufficiale perché la versione ufficiale è una versione rotta comprata insomma dal solito sistema no tra l'altro sempre einstein diceva che la materia non esiste tutto e energie e vibrazione la materia la definiva un'illusione persistente ora perché tutto energia e vibrazione perché gli atomi all'interno della materia vibrano vibrano e quindi la materia una forma di energia che ha una determinata vibrazione quindi se tutto energia e vibrazione anche la medicina vibrazionale è una possibile soluzione perché è qualcosa di completamente naturale più naturale della medicina vibrazionale non c'è niente vista la natura della realtà e tra l'altro nicola tesla albert adams royal raymond rife e anche fritz albert tutti hanno parlato di bioenergetica già all'inizio del ventesimo secolo parlavano di bioenergetica purtroppo quando si parla di queste cose scattano subito i pregiudizi perché la gente non conosce queste cose e quindi dicono che sono tutte fandoni in realtà dovrebbero dovrebbero proprio cominciare a vedere la realtà per quello che è ovvero energia e vibrazione oggi la comunità scientifica sta comprendendo sempre di più che noi siamo oltre la materia insomma cioè siamo non soltanto esseri materiali ma siamo anche esseri energetici cioè c'è già arrivata la comunità scientifica e che tutti noi abbiamo un biocampo del corpo ovvero una un'elettricità una una sorta di 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 campo energetico anche del corpo quindi non soltanto un campo materiale ma anche un campo energetico tra l'altro noi abbiamo un sistema energetico elettromagnetico cioè e ci sono degli esami diagnostici già già oggi che vanno a in qualche modo a decifrare il nostro sistema energetico per esempio il sistema che registra i battiti del cuore è un sistema che registra un qualcosa di elettrico perché il il cuore fa crea un movimento elettrico no oppure la magneto encefalografia cerebrale per i circuiti cerebrali anche quelli sono circuiti elettrici o ancora la risonanza magnetica anche quello riguarda è un qualcosa di elettrico quindi comunque noi non siamo soltanto materia ma siamo anche un qualcosa di più e la ripeto la scienza questo lo sa benissimo anche quella ufficiale il punto qual è il punto è che l'elettricità esiste in ogni essere vivente ogni essere vivente ha una propria energia una propria frequenza è una propria vibrazione ora che cosa accade noi abbiamo già visto nei film e anche anche nella nella medicina tradizionale ci sono queste macchine che scannerizzano il corpo alla ricerca di tumori alla ricerca di malattie e via dicendo quindi il futuro della medicina qual è sono queste macchine che non soltanto scannerizzano la malattia ma ma decifrano la 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 frequenza di quella malattia e invieranno delle frequenze per curare quella malattia si parla per esempio dei cosiddetti med petto per letti medici i letti medici che sono che già esistono sono una un'invenzione che ci sarà quando l'elite sarà accaduta questi letti medici cureranno le persone proprio con la medicina frequenziale alla medicina energetica perché sono dei letti in cui si registra la frequenza di quella malattia nonché la frequenza dell'individuo e quindi si mandano delle frequenze opposte per guarire il tutto questa non è fantascienza è scienza una volta che si capisce l'origine della materia stessa e ripeto queste sono cose che già accadono dietro le quinte anche se naturalmente a noi non c'è dato sapere e le masse diciamo così stanno comprendendo molto della scienza hanno compreso molto della scienza in questi anni e hanno compreso come la scienza realtà sia oramai è stata corrotta dall'economia perché è normale se tutto dipende dal denaro creato dal nulla anche la scienza diventa corrotta no e questa tra l'altro la scienza di oggi la medicina di oggi non considera l'aspetto emotivo mentale delle persone non considera niente di conseguenza non considerando il campo energetico del corpo si riduce al farmaco che cura il sintomo quindi capiamo che veramente la medicina di oggi ha molti limiti rispetto a quella che sarà la concezione un po meccanicistica se vogliamo anche io credo che in futuro ci vergogneremo della di una medicina che ha curato soltanto i sintomi quando in realtà noi siamo anche esseri energetici e dovevamo essere curati con delle frequenze però ogni cosa al suo tempo e va bene così tra l'altro nikola tesla citato sempre nikola tesla lui diceva che la scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità io credo che sia sotto gli occhi di tutti insomma quello che che è il sistema oggi che è un sistema ripeto che cura i sintomi che una sanità privata che insomma diventa sempre più appannaggio per pochi quello che è successo in questi anni credo con la corna la pandemia c'è credo che sia veramente sotto gli occhi di tutti quindi lascio a voi giudicare se la scienza di oggi sia una perversione oppure no per quanto mi riguarda io penso che che quello che deve guidare la scienza l'economia la vita ogni cosa deve essere l'amore se l'amore non guida tutto questo una una società anche quella più evoluta tecnologicamente arriva all'autodistruzione e infatti se non c'è questa se non c'è se non c'è questo risveglio di coscienza noi siamo veramente destinati all'autodistruzione perché poi è così insomma c'è perché poi tutto senza amore diventa in qualche modo una una perversione perché diventa un conflitto diventa un interesse diventa un un io contro di te perché non c'è una visione collettiva proprio proprio di amore quindi la medicina del futuro a mio avviso sarà una medicina frequenziale energetica e di conseguenza anche molto molto spirituale molto spirituale e guarda con questa tua perla diciamo di saggezza unita quella che è citato di di nicolas tesla quindi ripetiamo medicina frequenziale medicina vibrazionale bio energetica e come hai detto se ben guardiamo questi elementi ci sono alcuni di questi elementi sono già presenti nella medicina nella tecnologia che già utilizziamo in alcuni ambiti della 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 medicina siamo in chiusura grazie gabriele sanino per aver gettato uno sguardo sugli aspetti oscuri di big pharma e di aver gettato uno sguardo una prospettiva sul futuro sulla nuova medicina grazie grazie a te e appuntamento alla prossima puntata ciao carlo ciao a tutti grazie a tutti a tutti voi amici ascoltatori amici ascoltatori